Nemmeno il tempo di concludere la regular season che la MB vuole subito verso i playoff, verso la postseason 2022. Questo è il tabellone delle 12 squadre qualificate e come ogni anno arriva il video di presentazione per quanto riguarda la postseason con tanto di miei pronostici che ovviamente cannerò in quanto non una persona così tanto competente. Al di là delle battute è tempo di mettere ordine dopo 62 partite di regular season, peraltro vi invito a rivedere ancora una volta il video che ho fatto con Puma Z che è uscito ieri l'altro e concentrarsi dopo aver visto il pagelluna della regular season su quello che è di fatto il suo seguito spirituale, ovvero la presentazione dei nuovi playoff perché sappiamo che da quest'anno la MB ha allargato il numero dei partecipanti da 10 a 12 squadre, 6 per Lega. Vediamo già un tabellone che in parte è già composto per quanto riguarda le Division Series ma abbiamo subito una grandissima novità. Avendo 6 squadre per Lega viene fatto di fatto un nuovo primo turno, le cosiddette Wild Card Series, quelle che fino all'anno scorso erano la partita della morte, adesso sono una serie vera e propria che qualifica 4 squadre per Lega in base alle classifiche della regular season. Classifiche della regular season che andiamo per un attimo a recuperare e a spiegare meglio perché il tabellone effettivamente va spiegato soprattutto per la prima volta quest'anno visto che appunto è un nuovo format. Passiamo ad analizzare ogni classifica di ogni division visto che la regular season è finita mercoledì su giovedì per noi in Italia e partiamo dalla spiegazione delle classifiche della American League. Noi sappiamo per regolamento che quest'anno si qualificano direttamente ai playoff le tre vincitrici di ogni divisione per Lega più tre Wild Card. Di queste tre qualificate alla divisione, diciamo ai playoff per vincitore della division appunto hanno un buy quindi anziché affrontare il primo turno passano di fatto al turno successivo. E per stabilire quello si prende in considerazione il record appunto di ogni singola squadra per ogni singola Lega. Nello specifico dell'American League sappiamo che le vincitrici della division sono gli Houston Astros, gli New York Yankees e i Cleveland Guardians. Di queste tre formazioni Houston e i New York Yankees passano direttamente al turno successivo quindi hanno un buy per le Wild Card Series in quanto sono arrivate entrambe davanti a Cleveland che di fatto è la terza peggior vincitrice di division. Di conseguenza da una parte del tabellone avremo i New York Yankees, dall'altra parte del tabellone avremo i Houston Astros che si dovranno appunto confrontare con la vincitrice dei due turni di Wild Card Series. E per fare questo turno di Wild Card Series si deve prendere in considerazione il binomio 3 contro 6 e 4 contro 5. Quindi la vincitrice di division peggiore ovvero Cleveland affronterà la sesta qualificata dei playoff dell'American League, in questo caso i Tampa Bay Rays che sono appunto arrivati in fondo con 86 vittorie e 76 sconfitte. Per quanto riguarda invece l'altro sconto della Wild Card Series sarà appunto Toronto Blue Jays contro Seattle Mariners. Per completezza guardiamo anche la classifica della National League che vede lo stesso identico principio, si qualificano direttamente alle Division Series le due migliori vincitrici di division della National League. Quindi da una parte i Los Angeles Dodgers e dall'altra gli Atlanta Braves rispettivamente con 111 e 101 vittorie, la terza qualificata ai playoff sono i St. Louis Cardinals con 93 vittorie. Un record incredibile che però non è bastato a qualificarsi direttamente alle Division Series visto che quest'anno i Dodgers e i Braves hanno fatto due signori stagioni. I restanti team sono qualificati appunto tramite Wild Card a partire dai New York Mets, dai San Diego Padres e dai Philadelphia Phillies con lo scontro che vedrà nelle Wild Card Series St. Louis contro Philadelphia e New York Mets contro San Diego. Nota a margine, Atlanta e New York Mets hanno esattamente lo stesso record ma per via del vantaggio degli scontri diretti a favore degli Atlanta Braves i New York Mets dovranno passare per il turno di Wild Card contro i San Diego Padres e abbiamo visto già da una prima occhiata del tabellone come effettivamente questa cosa può cambiare nel percorso di entrambe le formazioni. Tabellone che quindi adesso presenta il primissimo turno, un tabellone che appunto parte oggi alle 7 ore italiane con le Wild Card Series e in particolare abbiamo gli scontri citati precedente con Cleveland contro Tampa Bay per quanto riguarda la parte alta del tabellone dell'American League e la vincitrice di questa serie andrà ad affrontare i New York Yankees dall'altra parte nella parte bassa abbiamo i Toronto Blue Jays contro i Seattle Mariners e la vincitrice di questa serie andrà ad affrontare gli Houston Astros per quanto riguarda invece la National League abbiamo St. Louis Cardinals contro Philadelphia Phillies e dall'altra parte nella parte bassa i New York Mets contro i San Diego Padres tutte queste serie che vi ho appena elencato saranno al meglio delle tre partite, si giocheranno in casa della miglior classificata quindi per fare un esempio dei New York Mets ci sarà la sfida contro i San Diego Padres e saranno male che vada tre partite al City Field stesso discorso per St. Louis, Cleveland e Toronto che hanno appunto il fattore campo è una serie best of three quindi è ovvio pensare che chi vince due partite si qualifica al turno successivo ricordiamo anche una volta la vincitrice della serie tra Cleveland e Tampa Bay affronterà gli Yankees quella tra i Blue Jays e i Mariners affronterà Houston, quella tra St. Louis e Philadelphia affronterà i Braves e poi quella tra New York Mets e San Diego Padres affronterà i Los Angeles Dodgers a partire dalle Division Series in avanti il format è quello che abbiamo sempre visto in anni precedenti di conseguenza Division Series al meglio delle cinque partite, Championship Series e World Series al meglio delle sette partite di conseguenza nei turni successivi basterà vincere tre partite e dalle Championship Series in poi quattro per poi aggiudicarsi eventualmente il passaggio alle World Series e quindi il titolo del mondo della MLB un tabellone che finalmente dà una sorta di modernità dal mio modo di vedere a questi playoff MLB che dei quattro sport americani erano effettivamente quelli forse un po' più retrogradi perché il baseball sappiamo che è uno sport di base molto conservatore e tradizionalista non è però appunto mai tardi per cambiare e di conseguenza bello l'allargamento non si arriverà secondo me in tempi così brevi ai 16 team magari di NHL ed NBA tolta la stagione corta 2020 ma quel è un altro discorso oggi a 12 possono garantire un qualcosa di sorprendente perché su tre partite effettivamente si possono vedere delle cose molto interessanti a differenza dell'anno scorso dove la World Series di fatto non esisteva ed era un World Card Game, la panetta della morte immaginatevi una squadra che arriva alla World Card gioca 162 partite alla morte per qualificarsi alla postseason perde la panetta di World Card e poi vai a casa in uno sport che è abituato a giocare per serie consecutive secondo me almeno mettere una serie a tre partite è cosa sacrosanta e infatti i playoff già dal primo turno possono dare appunto un sacco di interesse e possono dare sicuramente adito a pronostici che possono assolutamente non essere scontati e magari chissà vedere qualche upset e qui addentriamoci nei pronostici perché è la cosa più divertente fare il nostro Fanta bracket che puntualmente sbaglieremo perché sappiamo che il baseball negli altri anni ha sempre regalato qualcosa di sorprendente vedi l'anno scorso lo stesso titolo degli Atlanta Braves che non dico non era molto quotato però effettivamente c'erano squadre sulla carta superiori il titolo dei Washington Nationals non ne parliamo e potremmo andare avanti per ore a citare altri titoli inaspettati certo che come ho detto già mercoledì scorso con il video di Puma Z è evidente che due squadre sulla carta sembrano nettamente superiori e quelle due formazioni sono i Los Angeles Dodgers e gli Houston Astros entrambe da una parte al record di franchigia superato i Los Angeles Dodgers e dall'altra di fatto ci sono andati molto vicini sono due squadre costruite per vincere due squadre che devono arrivare praticamente fino in fondo non dico per diritto dovuto perché è un brutto termine però per profondità di roster per tanti aspetti del gioco che difficilmente sbagliano sono team che sono candidati ad arrivare fino alle World Series e avere ancora una volta la rivincita tra Houston e l'Edeley sarebbe sicuramente interessante come eventuale World Series partiamo però all'indietro per quanto riguarda i pronostici e partiamo dalle World Series perché effettivamente anche gli scontri che vediamo a partire da stasera sono assolutamente importanti a partire da Cleveland Tampa Bay Cleveland abbiamo già detto nel video con Christian che è sicuramente una rivelazione se non la rivelazione di questa Lega dopo veramente una division che sembrava appannaggio di altre formazioni vedi per esempio i Chicago White Sox e i Minnesota Twins Cleveland si è meritata sul campo alla qualificazione ai playoff ma affronta una bruttissima bestia secondo me per questi playoff perché i Tampa Bay Rays è vero che hanno sempre avuto una miriade di infortuni ma veramente una miriade ma una volta che arrivano ai playoff è veramente difficile batterli i Tampa Bay Rays è vero che hanno il sesto seeding del tabellone ma sono abituati a presenziare a questo tipo di evento mentre i Cleveland Guardians non ci arrivavano di fatto dai tempi della World Series persa contro i Chicago Cubs anche se all'epoca si chiamavano Indians dovessi fare un pronostico tra Tampa Bay e Cleveland io azzarderei un upset con magari una Tampa Bay che potrebbe vincere in tre partite quindi i Rays di Kevin Cash potrebbero avanzare secondo me con un bel 2-1 e salutare appunto la Division Series contro gli Yankees peraltro altra rivalità già vista e rivista negli scorsi playoff è molto interessante anche la sfida dalla parte bassa del tabellone dell'American League quella tra i Seattle Mariners e i Toronto Blue Jays si gioca nel fattore campo di Toronto quindi tre partite a Roger Center e Toronto in casa è una brutta bestia sarei contento se i Mariners altra grande rivelazione di questa stagione arrivassero a vincere una partita sulla carta vedo i Blue Jays favoriti per 2-1 e quindi potrebbero rispettare il fattore campo poi secondo me chiunque vada a uscire vincitore da questo scontro tra canadesi e americani affronterebbe gli Houston Astros da sfavorito evidentemente perché gli Houston Astros hanno non dico una buona strada verso almeno le Championship Series ma poco ci manca dall'altra parte abbiamo un bellissimo St. Louis Philadelphia come scontro di primo turno una St. Louis che è tornata in playoff la St. Louis dei veterani di Pujols all'ultima stagione stesso discorso per Adam Wainwright e Yadier Molina che possono regalare secondo me l'ultimo canto del cigno agli storici St. Louis Cardinals che ricordiamo ancora una volta sono la seconda squadra capitata nella storia del gioco con 12 titoli MLB e affrontano i Philadelphia Phillies che anche loro come Seattle Mariners mancavano dai playoff da una vita i Mariners addirittura dal 2001 i Phillies dal 2011 non vedo comunque i Phillies favoriti vedo St. Louis secondo me che può far bene può passare il turno addirittura in due secondo me perché St. Louis in casa è una bellissima squadra a Philadelphia diciamo è arrivata ai playoff anche per demeriti dei Brewers più che meriti evidentemente suoi comunque è una bellissima squadra pensando a Philadelphia come ho detto più volte che hanno un monte di lancio molto solido con Zach Wheeler e a Ron Nola c'è Kai Schwaber che ha fatto una stagione da Dio certo contro questi St. Louis Cardinals che anche loro per storia tradizione sono abituati ad entrare in questi playoff è veramente complicato vedo una Division Series St. Louis contro Atlanta Braves ed il pronostico è sbilanciato verso i Braves ma forse non così tanto spero dalla parte sotto del tabellone invece che i Mets riescono ad averla meglio dei Padres Padres che hanno fatto tantissimi acquisti lo sappiamo nel corso del mercato di luglio Soto e Heider su tutti che però hanno reso alterni per quanto riguarda Soto non hanno reso per niente per quanto riguarda Heider i Mets nonostante lo stesso record degli Atlanta Braves sono appunto finiti in wildcard come ripeto anche una volta per lo svantaggio degli scontri diretti e devono passare per un turno in più è vero si gioca al City Field è vero c'è Max Scherzer piccola pecca De Grom in day to day potrebbe comunque rientrare per questo primo turno certo che sulla carta i Mets hanno dimostrato di essere comunque superiori ai San Diego Padres che sembrano più una squadra di figurine di nomi più che di squadra è vero che anche i Mets spendono tanto e hanno tantissimi campioni però abbiamo visto che anche nelle difficoltà i Mets sono stati un po' più squadra rispetto ai Padres vedi per esempio il momento in cui sono mancati sia De Grom sia Scherzer spero che i Mets possano andare sul 2-0 nonostante San Diego sia una squadra che personalmente mi piace ma i Mets dovrebbero passare il turno male che vada speriamo un 2-1 per i Mets e poi arriva il delirio contro i Los Angeles Daughters e qui i pronostici si fanno veramente interessanti perché secondo il mio personalissimo tabellone dovremmo avere un Tampa Bay New York Yankees da una parte e sotto Toronto Blue Jays Houston Astros dall'altra parte St. Louis Braves Mets Dodgers una division series che avrebbe comunque tantissimi risvolti importanti una division series che però ricordiamo è il meglio delle 5 partite e anche qui il pronostico chiuso può essere assolutamente all'ordine del giorno perché se ci dovessimo adentrare ancora nei pronostici della domenica anche se oggi è venerdì se dovessimo avere un Tampa Bay New York Yankees io vedo senza dubbio una partita in 5 sfide ovviamente Tampa Bay e New York Yankees è una rivalità che abbiamo visto nel corso degli anni soprattutto in tempi recenti che ha avuto il culmine nella grandiosa serie del 2020 dove Mike Brossola risolse sulla roll di ciampa dopo essere stato colpito in un precedente incontro di regular season e per gli stessi motivi che ho detto prima per quanto riguarda Tampa Bay contro Cleveland Tampa Bay una volta che arriva ottobre e magari passa un turno di playoff è una bella bestia da affrontare certo gli Yankees rimangono superiori a questi race che però ripeto vanno battuti e mi auguro che un eventuale Yankees Tampa Bay possa finire in 5 partite per i New York Yankees però si è più chiuso secondo me invece per quanto riguarda Houston Toronto Blue Jays perché in 5 partite Houston dovrebbe avere vita molto più facile vedo un 3-2 potrebbe essere 3-1 secondo me per Houston 3-0 se proprio il monte di lancio è stato di grazia e Verlander fa il Verlander di questa regular season McCullers fa il McCullers di questa regular season e poi un terzo partente in rotazione abbiamo visto che Houston ne ha veramente un sacco alcuni possono anche essere ruotati come rilievi lunghi vedi per esempio Luis Garcia insomma Houston nel breve termine secondo me ha chance di battere moltissime squadre anche di questi playoff dall'altra parte invece avremmo un St. Louis Atlanta Braves e qui vedo secondo me un 3-1 per quanto riguarda gli Atlanta Braves che sono più profondi di roster rispetto ai St. Louis Cardinals che però non partono battuti soprattutto quando parte Adam Wainwright potrebbe avere anche delle chance con Jordan Montgomery titolare sul monte di lancio dai Braves hanno dimostrato che hanno veramente la profondità di monte di lancio invidiabile perché basti pensare semplicemente a Kyle Wright e soprattutto anche a Splendor Strider sicuramente uno dei rookie più importanti dal punto di vista di tutto l'arco della National League per avere sicuramente un viatico molto importante qualora invece dalla parte bassa del tabellone dovrebbe esserci lo scontro tra Los Angeles Dodgers e New York Mets mi auguro finisca in 5 e vedo più favoriti i Dodgers dal mio punto di vista perché Mets e Los Angeles sono due squadre che senza dubbio sono state costruite per vincere i Los Angeles Dodgers però mi appaiono molto meglio rispetto ai miei Mets lo dico appunto da tifoso della squadra new yorkese i Dodgers hanno una profondità di roster a tutto tondo che i Mets su alcuni punti non hanno è vero che i Mets hanno dimostrato di essere molto squadra in questi tempi ma devono fare secondo me ancora quel saltino in più di qualità per fare il famoso centesimo per fare l'euro e l'abbiamo visto anche negli sconti diretti con i briefs del finale di stagione perché i Mets hanno governato e dominato quasi la regular season per 100 erotti giorni poi sono calati tra agosto e settembre e alla fine Atlanta l'ha spuntata meritatamente involata ed è per questo che i Mets passano d'autunno in più e beccarsi i Dodgers prima delle championship series può essere probabilmente il salutare i playoff per i new york Mets vedo un los angeles Dodgers secondo me più importante rispetto a questi Mets ma spero finisca in 5 partite 3 a 2 per i Dodgers se dovesse cedere invece il miracolo degli amazing Mets 2.0 tanto meglio e si vuole alle championship series le mie personali championship series invece sono di fatto quelle che tutti si aspettavano probabilmente quindi un New York Yankees Houston Astros e Los Angeles Dodgers Atlanta Braves ovviamente non sarà così perché sappiamo che il baseball MLB soprattutto i playoff regala degli upset incredibili però è ovvio che sulla carta queste world series o meglio championship series sono quelle che non dico tutti i tifosi vorrebbero vedere ma poco ci manca e mi auguro che ci possa essere il riscatto da parte di molte squadre i Dodgers possono riscattare la scompita della sede dell'anno scorso e sarebbe di fatto la bella tra Atlanta e Los Angeles perché sono a fondare nel 2020 a 2020 e nel 2021 hanno avuto i Braves sarebbe meraviglioso avere secondo me anche una volta Atlanta Los Angeles anche se è una cosa ovviamente già vista negli ultimi anni dall'altra parte avremmo Houston New York anche qui un rematch e ovvio la mia World Series personale l'ho detto anche mercoledì nel video con Puma Z è Houston Los Angeles Dodgers è complicato vedere in una stagione regolare dicendo su due partite le due migliori squadre che possano evidentemente arrivare fino in fondo è difficilmente successo è successa una stagione corta in realtà ma quello appunto stagione sui generis certo io mi aspetterei banalmente che sia Atlanta Los Angeles che New York Houston possano finire entrambi alla settima perché dalle Champions Series in poi si parla di sette partite e poi la World Series se fosse davvero Houston contro Los Angeles sarebbe molto affascinante perché sarebbe la rivincita della World Series che Houston vinse contro Los Angeles Dodgers all'epoca finì in sei partite fu il primo titolo degli Houston in 2017 quello tanto discusso i segnali rubati primo anche peraltro tra Justin Verlander e le soci ma sarebbe veramente uno sconto tra i titani tra due squadre che veramente meritano di essere lì fino in fondo e chissà che non ci possa essere il quinto titolo della storia per quanto riguarda i Dodgers o il secondo per Houston lì un pronostico è veramente difficile da fare dovrebbero finire pari ma non si può quindi spero che anche lì ci sia la settima partita è ovvio che tutti questi pronostici che ho detto saranno sicuramente smentiti ma avremo modo di verificarli man mano perché la programmazione del canale sportivo per ottobre è molto dedicata al meraviglioso gioco del baseball e ricordo anche una volta che per chi non mi seguiva come gli anni scorsi ogni fine turno che sia Wild Card Series Division Series Championship Series ci sarà un nuovo video di recap per aggiornare il tabellone e vedere effettivamente chi può effettivamente arrivare fino in fondo io vedo questi Dodgers favoriti anche per il titolo e il mio pronostico è Dodgers in 7 contro Houston ma anche fossero contro i New York Yankees li vedo con una marcia superiore vedremo se il mio pronostico per una volta sarà azzeccato o se ci sarà veramente il miracolo del pronostico ribaltato un po' come capita sempre nel meraviglioso gioco del baseball soprattutto appunto in questo mese di ottobre fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate per quanto riguarda questa presentazione dei playoff ancora una volta molto interessanti e molto emozionanti già a partire da adesso in questo primo turno di Wild Card Series contro appunto i pronostici che volete fare voi ricordo ancora una volta che ci sarà anche la possibilità di vedere il baseball commentato in italiano Sky Sport trasmetterà una partita al giorno anche con il commento dei teleconisti di Sky al secolo i leggendari Pietro Nicolodi Danilo Freri Michele Gallerani e Roberto Gotta che mai guarderanno questo video ma io personalmente ringrazio per offrirmi da anni un servizio così chiaro e puntuale per il meraviglioso gioco del baseball noi col nostro meraviglioso gioco del baseball invece ci rivediamo al terreno delle Wild Card Series ricordo che già oggi venerdì parte il primo turno con le partite che vedete elencate nel tabellone Tampa Bay Cleveland Siatto il Toronto Philadelphia St. Louis San Diego New York Mets e saluto da parte di Matthew Thorgaard buoni playoff MLB a tutti e ci vediamo un prossimo video Grazie a tutti